Buonasera a tutti, sono lieto di annunciare che nel Consiglio dei Ministri, che si è appena concluso, abbiamo approvato uno schema di disegno di legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione della famiglia, il Family Act. Sono misure per sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, per contrastare un grosso problema che stiamo riscontrando in Italia negli ultimi anni la denatalità per valorizzare ancor più la crescita armoniosa delle nostre bambine, dei nostri bambini, dei giovani e per favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile. Do subito la parola alla Ministra Bonetti e poi alla Ministra Catalfo perché devo a loro l'impegno per portare a compimento questo nuovo significativo provvedimento normativo. Ministra Bonetti. Grazie. È un momento storico, un momento importante per il nostro Paese che finalmente si dota di una riforma integrata, multidimensionale per le politiche familiari. Per la prima volta c'è un investimento di un Governo su una riforma ampia, strutturale, che vede nelle famiglie del nostro Paese soggetti capaci di contribuire e di dare una prospettiva di futuro a tutta la nostra comunità. Le famiglie lo hanno dimostrato particolarmente in questi mesi ed è importante, io ho molto apprezzato il coraggio e l'intuizione del Presidente del Consiglio e il lavoro conseguente di tutto il Governo che ha portato all'approvazione di questa riforma come il primo atto concreto anche di ripartenza dopo questi mesi difficili. Ripartiamo investendo in umanità con proposte chiare che vogliono cambiare in meglio la vita delle nostre famiglie, quindi l'assegno universale e unico per tutti i figli, mensile, un sostegno alle spese educative e al ruolo educativo delle famiglie, un incremento della rete dei servizi educativi a sostegno delle famiglie, in particolare per la fascia 06, una riforma dei congedi parentali con una maggiore corresponsabilità tra padri e madri, l'incentivo al lavoro femminile e promozione dell'autonomia, del protagonismo dei giovani e delle giovani coppie per aiutarli ad iniziare un percorso di vita in autonomia. Io credo che da questo momento davvero l'Italia possa ripartire e possa dire con orgoglio che sia stata una scelta di speranza e di coraggio. È un lavoro fatto davvero con il concerto di tutto il Governo, di tutte le forze di maggioranza. In questo momento poi è importante dare concretezza a questo percorso ed è per questo che abbiamo deciso di proseguire, di far partire l'approvazione del Family Act nella parte dell'assegno unico universale attraverso un percorso parlamentare che era già stato avviato precedentemente con il progetto di legge a prima firma del Rio. Questo è un progetto importante che quindi sarà il primo passo concreto di realizzazione di tutta la proposta integrata del Family Act e che vedrà appunto questa collaborazione col Parlamento. Io credo che sia un tema di trasversalità non solo della maggioranza e quindi io mi aspetto che ci sia poi il contributo davvero di tutto l'arco parlamentare perché è una riforma che deve vedere un gioco di squadra di tutti. Ministra Catalfo. Grazie, è un lavoro molto importante, una riforma fatta in sinergia con il Ministro Bonetti e con tutti gli altri ministri coinvolti che tocca dei punti importanti sulla famiglia, sul sostegno alla genitorialità che riguarda anche in modo particolare le donne, il lavoro femminile, con questa riforma si intende incentivare il lavoro delle donne, sappiamo che sono tante le donne inattive, tante le donne che riescono sempre a mantenere il loro posto di lavoro e a continuare a lavorare. A volte sono costrette a lasciare il luogo di lavoro, quindi degli incentivi importanti per rafforzare il ruolo delle donne nel contesto lavorativo, anche nel mezzogiorno per questo c'è stato un lavoro importante anche con il Ministro Provenzano e quindi un lavoro importante che abbiamo fatto tutti insieme come Governo, ma appunto come ha sottolineato il Ministro Bonetti, anche con il Parlamento attraverso, lo faremo e continueremo a farlo, anche attraverso il disegno di legge del Rio. Un'ultima informazione vi fornisco dal lunedì, ricordo potrà essere scaricata in tutto il territorio nazionale, sarà operativa in tutto il territorio nazionale l'app Immuni, la potete scaricare con sicurezza, con serenità e tranquillità, perché è un'app che tutela la privacy, da questo punto di vista è molto rigorosa la disciplina, è un'app che non invade quindi i vostri spazi di riservo privati, ma nello stesso tempo vi offre un'opportunità in più per ricevere informazioni in caso di contatti, tra virgolette, sospetti. È un'app di cui siamo fieri, perché in tutta sicurezza garantiamo un servizio in più a tutti i cittadini italiani e siamo stati i primi in Europa, se non addirittura i primi nel mondo occidentale, a giungere questo risultato molto sofisticato dal punto di vista tecnologico che ha raggiunto e ha superato anche il vaglio molto severo degli istituti internazionali più rigorosi e accreditati. E ancora un'ulteriore novità, a decorre dal 12 giugno riprendono, questa sera ho appena firmato un nuovo DPCM, da questa sera riprendono, dal 12 giugno riprendono gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse, quindi anche la Coppa Italia di calcio per intenderci e comunque senza la presenza di pubblico nel rispetto dei protocolli che sono stati emanati da rispettive federazioni sportive al fine di prevenire ovviamente le occasioni di contagio. Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo sono consentite a condizione che le regioni e province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica. Ancora dal 25 giugno riprendono gli sport di contatto, o meglio possono riprendere gli sport anche di contatto, quelli amatoriali ovviamente non professionistici, se le regioni ma anche il Ministro dello Sport e il Ministro della Salute accertino che ricorrono ovviamente, ricorre alla compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica. Ricordo ancora che riaprono i centri estivi anche per i bambini in età da nido da 0 a 3 anni, riprendono gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele e precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati all'aperto o al chiuso che siano? Restano sospese fino al 14 giugno 2020 le fiere e i congressi, i corsi professionali potranno essere svolti in presenza, le attività di centri benessere, di centri termali, culturali, centri sociali sono consentite ma anche qui a condizione che regioni e province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica e in materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore, quindi 5 giorni, il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprensa, ovviamente a ventisette legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative. Mi ringraziamo, vi ringrazio in particolare le Ministre, il Ministro Galtieri che ha lavorato anche con loro per questo importante raggiungimento, per questo Family Act. Grazie.